ha certamente aiutato, la gara di Armin Wittra finisce qui, Alberto Tomba ha 72 centesini da amministrare, forza Alberto, qui lui negli anni d'oro aveva una capacità di leggere la gara, negli anni d'oro, insomma 2-3 stagioni fa aveva una capacità eccezionale di leggere la gara, sapeva sempre trovare il ritmo giusto per... sta attaccando, è stato molto deciso, molto molto deciso, mamma mia, mi sembra che stia correndo proprio senza calcoli Alberto almeno per il momento, per il resto, un attimo ho visto un po' indietro, comunque non è male, forza Alberto, arriviamo all'intermedio, guardate che Roma, 41 centesimi alla grande, la pista è molto rovinata, alla grande, da qui in poi proprio basterebbe star tranquillo, ci ha lasciando insicurezza che la vittoria non dovrebbe sfuggire, mamma mia, buono, forza Alberto, qui direi che ha sciato con maggior giudizio, 72 centesimi il vantaggio nei confronti di Nicatrice, non ci sono problemi, grande vittoria, grande vittoria, 1-19, mamma mia, ho il cuore in gola e ho il terrore che Alberto potesse sbagliare, ripeto abbiamo vantaggi 72 centesimi, poteva proprio giocarsela con tranquillità, invece ha fatto una grandissima mancia ancora e stravince la gara, Alberto Tomba da un secondo e...